Sigillato e consegnato in tarda mattinata il plico dell'undicesima commissione dell'esame di Stato 2020, è giunto il momento di fare un bilancio finale per il liceo classico Alessandro Manzoni di Mistretta. Esso è ampiamente positivo nel giudizio della presidente, attuale dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Rocca Lumera, e in passato dirigente protempore per l'Istituto di Istruzione Superiore Alessandro Manzoni, Sauastita Mirella Guta. Le difficoltà di valutazione dei ragazzi sembravano di essere insormontabili, in realtà stanno risultando meno difficili di quanto si poteva immaginare, anche perché in qualche modo in fondo questo colloquio che si intrattiene con ciascun candidato dà la possibilità ai commissari comunque di interloquire e di forza gioco, in realtà valorizzare, condurre i ragazzi alla valorizzazione dei loro apprendimenti. Molto soddisfacente il bilancio per la commissione interna, dichiara la professoressa Graziella Ribaudo, che ha portato a termine il lavoro di un intenso percorso scolastico e soprattutto di un anno particolare che ha visto attuare con molto profitto l'attività formativa anche grazie all'efficacia della didattica a distanza, sapientemente diretta e coordinata dal dirigente scolastico Virginia Ruggeri. L'esame, tanto atteso dalle alunne e condotto in presenza, nei locali dove si è svolta la vita scolastica di un quinquennio, con la massima garanzia sul piano della normativa sanitaria in atto, è stato il primo motivo di gioia per la possibilità di avere un incontro personale che in qualche modo ha compensato le privazioni degli scorsi mesi. A questa gioia ne sono seguite molte altre, coronamento di un impegno che ha sempre messo al primo posto la correlazione tra i contenuti dell'Iceo Classico e l'attualità in cui ci troviamo a vivere. Il colloquio finale, alla presenza dell'intera commissione, si è concluso con valutazioni eccellenti, con un 100 lode, due, 100, diverse valutazioni superiori ai 90 e le altre ampiamente positive. Alle alunne maturate, conclude la Ribaudo, non può che essere rivolto l'augurio di mettere a frutto nella vita la propria formazione classica.